Il re Zuccadorme. Se vuoi che questo regale vegetale ti dia udienza, devi ridurre in poltiglia tutti i suoi baccelli. Il re Zuccadorme. Il re Zuccadorme. Il re Zuccadorme. Il re Zuccadorme. Si narra che la strega Zucca sia in possesso della ricercata gemma di drago. Se hai un talismano delle streghe, puoi invocare questa adorabile incantatrice. Buongiorno signore, sono la strega Zucca. Sono come una mamma per queste zucche. Do loro tutto l'amore e la cura che un frutto giovane potrebbe chiedere, dal momento in cui i primi germogli spuntano dal terreno fino a quando taglio la loro testa per mangiarle. E guarda come mi ripagano, scappando e provocando danni. Quel mascalzone di Zuccone ha una cattiva influenza sulle piantine giovani. Se gli dai una bella lezione ti faccio un bel regalo. E guarda come mi ripagano. E guarda come mi ripagano. E guarda come mi ripagano. Grazie a tutti 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 Un bello spettacolo davvero signore L'uomo e il vegetale si sfidano a un duello all'ultimo sangue Oh, sono emozionata Tieni, prendi questa gemma di drago come ricompensa Ah, che adorabili creature imponenti i draghi Grazie a tutti Grazie a tutti Ehi, Daniel, ho qualcosa per te, forse, ma non ho la più pallida idea di che cosa sia Ti tenta?